Grazie mille Nadia, anche per il rispetto dei tempi, anche con un po' di anticipo, hai restituito molto brava. Come modalità direi avremo tempo anche per discussione e dibattito. Se c'è una domanda veloce, un chiarimento per Nadia, altrimenti darei subito la parola al professor Ciofi, che dovrebbe essere in sala, ecco che si avvicina. Grazie Nadia di nuovo. Il professor Ciofi è un genetico dell'Università di Firenze. Lui, essendo un genetico, ci spiegherà e ci parlerà di come la genetica e la genomica sono importanti per la caratterizzazione delle popolazioni naturali. Professore, anche per lei 20 minuti. Il programma prevede di tempo per la relazione. Grazie. Sì, grazie all'ISPRA, grazie al Corpo dei Carabinieri, a Nadia per l'invito. Sì, sarò relativamente breve rispetto all'intervento della dottoressa Nucci. Volevo più o meno calcare l'importanza sulla definizione della struttura genetica delle popolazioni naturali. Sia delle popolazioni naturali, sia degli individui che sono mantenuti in cattività a seguito di situazioni in cui sono stati confiscati, oppure in cui sono all'interno di centri di recupero. E l'importanza della struttura genetica delle popolazioni naturali principalmente per dei progetti di gestione e conservazione che spesso sono difficilmente ottenibili tramite appunto delle tecniche classiche di monitoraggio. Diciamo delle informazioni che si possono, fra le varie informazioni che si possono ottenere dalla popolazione naturale utilizzando dei marcatori genetici, vi sono innanzitutto l'identificazione della specie. Questo può essere, diciamo, una banale, ma specialmente per quelle specie che sono, diciamo, di difficile identificazione o che non si possono catturare, ad esempio l'utilizzo appunto della genetica non invasiva, cioè di campioni lasciati dagli animali, dagli individui sul territorio invece che gli animali che vengono catturati, sono importanti appunto per definire ciò che noi stiamo studiando e quindi il tipo di specie che vogliamo appunto, di cui vogliamo avere informazione. Importante è anche la determinazione del grado di differenziazione fra le varie popolazioni in un territorio che possono, informazioni che possono andare, diciamo, a supporto di dati progressi oppure confutare ciò che sapevamo prima tramite appunto tecniche di carattere classico. E' lo stima del flusso genico fra popolazioni, anche questo importante, che in alcuni casi può dare informazione anche sulla presenza o meno di corridoi ecologici, cose che possono non essere ovvie da studi, ad esempio basati su un numero di struttori animali che sono stati, ad esempio, marcati tramite delle trasmittenti o dei collari GPS. E anche la determinazione del grado, diciamo, di parentela di un incrocio all'interno di queste popolazioni che può dare delle informazioni su delle specifiche caratteristiche del genoma che, se nel caso appunto c'è un alto livello di un incrocio, possono avere un effetto negativo, diciamo, sull'idoneità o fitness di una popolazione, oppure andare a definire determinate caratteristiche che danno invece delle capacità a una popolazione, anche seppur piccola, di persistere in determinate condizioni appunto demografiche non ideale, quando la popolazione è piccola. Di questi, diciamo, di questi parametri, è importante appunto il fatto che oggigiorno, come appunto diceva anche la Nadia, molto spesso si può ricorrere alla cosiddetta appunto l'utilizzo di campioni non invasivi, cioè non è necessario appunto catturare l'animale, ma ci si può fare riferimento a campioni ad esempio di pelo, come nel caso, in questo caso ho messo qui una foto dell'orso, oppure dei campioni appunto fecali. Quindi, diciamo, la possibilità appunto di lavorare su campioni minimi di DNA, mediante appunto le tecniche che oggi giorno sono a disposizione, ci dà la possibilità di avere molte informazioni su una popolazione naturale che prima, diciamo, non potevano essere raccolte. Di tutte queste informazioni, in particolare il rilievo per la gestione probabilmente è appunto la determinazione del grado di differenziazione genetica fra le popolazioni, perché questo ci può permettere in pratica di avere un'idea della struttura genetica delle popolazioni naturali, poi per programmi pratici di, diciamo, di reintroduzione in aree in cui una determinata popolazione non esiste più perché la specie si è estinta, oppure per rinforzo demografico, cioè popolazioni che sono tipico di dimensione e quindi bisogna rinforzare queste popolazioni con individui. Quindi è importante, molto importante, conoscere la struttura genetica di ciò che abbiamo sul territorio per poi poter, ad esempio, reintrodurre sul territorio degli individui di origine ognota, quindi praticamente fare dei test appunto di assegnazione appunto genetica. Quindi ci sono vari esempi di popolazioni, ad esempio, che sono soggette di illeciti, come ad esempio l'Avola del Bonelli, che sono popolazioni molto ristrette come Areale, oppure il Lanario, che sono soggette appunto a prelievi illeciti per la falconeria, in cui appunto è importante avere una, diciamo, avere un'idea quantitativa abbastanza precisa su come sono strutturate geneticamente le popolazioni naturali per poi poter agire su questo da un punto di vista eccezionale della conservazione e quindi, diciamo, con l'introduzione, ad esempio, di individui che sono stati mantenuti in cattività, che sono oggetti appunto di sequestro oppure che sono appunto in centri di recupero perché sono stati presi anche da privati. Giorgio Pertorelli parlerà appunto della testudo Irmani. È importante appunto avere un'idea appunto della, molto, relativamente precisa, della struttura genetica. E questo viene generalmente fatto utilizzando due classi, diciamo così, di marcatori genetici. Il DNA mitocondriale e principalmente il DNA nucleare. Ora, ovviamente, non è che vado molto nello specifico su questo, ma solamente per farvi vedere più o meno quali possono essere, diciamo, le informazioni che si possono ricavare da questi marcatori. Uno è, diciamo, tramite la caratterizzazione di zone specifiche, oggigiorno addirittura di interigenome, comunque di zone specifiche del DNA, in questo caso mitocondriale, uno può avere delle informazioni sulla specie che uno ha a che fare, diciamo, campioni che possono essere raccolte sul territorio, ad esempio dei campioni di pelo oppure delle piume, di cui non sappiamo l'origine perché non possiamo vedere l'animale, diciamo, che li ha lasciati, confrontando delle porzioni specifiche del DNA che uno estrae da questi campioni, confrontando queste porzioni specifiche con un database internazionale in cui sono presenti, diciamo, le sequenze cosiddette barcode per tutte le determinate specie, uno può definire se il suo campione appartiene a una specie A o a una specie B. E quindi questo qui è una prima informazione abbastanza importante. E poi, con un marcatore come il DNA mitocondriale, uno può avere, può, diciamo, fornire una definizione preliminare sulla differenza di popolazione a livello, ad esempio, di macro-aree geografiche, semplicemente confrontando delle sequenze fra individui e identificando dei punti, qui messi in rosso, quelle due basi C e T, in cui gli individui si differenziano, quindi in cui aree geografiche, appunto, differenti, si differenziano fra loro e quindi definire, appunto, la sequenza di un DNA di un livello ignoto se appartiene a un'area geografica A o a un'area geografica B. Si può andare anche molto più sullo specifico utilizzando dei marcatori del DNA nucleare, quelli, ad esempio, che vengono utilizzati per il cosiddetto DNA fingerprint, in cui si delinea, diciamo, un profilo abbastanza preciso, genetico dei singoli individui, e quindi, ad esempio, da macro-aree geografiche si può andare a definire proprio la popolazione specifica a cui un individuo di origine ignota appartiene. Questo si può fare sia utilizzando un numero, diciamo, limitato di zone del DNA o utilizzando migliaia, appunto, di punti specifici del DNA che vengono, appunto, chiamati polimorfismi a singolo nucleotide, in cui vedete in questa diapositiva questo MB sono, appunto, milioni, diciamo, di basi piuttosto che, diciamo, centinaia o migliaia e questa zona in bassa a sinistra, diciamo, in rosa è tutto un gradiente che definisce quanti punti ci sono in tutta quella zona a barre che distinguono, diciamo, un individuo, appunto, dall'altro. Quindi, diciamo, che si può passare, oggigiorno, appunto, da una definizione delle differenze fra singoli individui, fra popolazioni basate su singole zone, appunto, del DNA a migliaia o anche decine di migliaia, appunto, di punti con i quali si può avere una definizione molto, molto specifica dei singoli individui, delle singole popolazioni e quindi definire in maniera abbastanza accurata, molto accurata, diciamo, l'origine di individui, ad esempio, in cui, appunto, non sappiamo a priori qual è la popolazione naturale di origine. Questo qui è un altro esempio su una specie nostra, l'emisorbicularis, che, diciamo, non ha al momento una particolare attenzione come, ad esempio, la Testudo, però è oggetto al momento, appunto, di un tentativa, appunto, di progetto per quanto riguarda dell'Unione Europea, un progetto LIFE per, appunto, definire in primis la struttura genetica delle popolazioni naturali per poi andare a definire dove andare a reintrodurre individui che sono mantenuti, appunto, in condizioni di cattività. Ora, in certe specie abbiamo la, diciamo, la fortuna, la possibilità di catturare questi animali da un punto di vista degli analisi laboratori più semplice, perché la purificazione del DNA da campioni biologici tipo campioni di sangue è un qualcosa di più semplice da fare che da purificazione del DNA da campioni non invasivi, quindi fesci o, ad esempio, peli, però tutto questo può essere fatto anche, ovviamente, utilizzando campioni, diciamo, più difficili da un punto di vista tecnico. Questi animali vengono generalmente catturati, vengono marcati e poi vengono, gli viene appunto preso un campione, un campione di sangue con il quale si definisce, appunto, il profilo genetico dei singoli individui. E questo viene fatto, diciamo, sia per le popolazioni naturali, quindi questo, vedete, è un progetto che sta andando avanti in cui abbiamo definito la struttura genetica di 33 siti di campionamento, queste sono, diciamo, le popolazioni naturali principali della tartaruga e palustra europea sul territorio italiano con più di 1400 individui e, diciamo, in base alla struttura genetica che appunto viene definita in primis confrontando le varie sequenze, bene, vedete quelle parti in rosso sono i punti in cui i vari individui si differenziano l'uno dall'altro, si può già definire, come vedete qua, una prima struttura nel territorio nazionale. I colori corrispondono a sequenze di DNA differente, la dimensione delle varie fette delle torte corrispondono al numero di individui che portano quella determinata sequenza e quindi, vedete, già si può definire un versante adriatico da, semplicemente guardando i colori, un versante adriatico da un versante tirrenico, le popolazioni della Sicilia una grossa diversità, relativamente grossa diversità genetica sulla parte del sud Italia e anche appunto sulla Sardegna. Quindi, su questa base, questa è una base di partenza in cui, se uno ha un individuo mantenuto appunto in cattività, definendo la sequenza del dinamito intercontrare, uno può innanzitutto andare a vedere a quale macroarea geografica appartiene quell'individuo appunto di origine ignota e quindi dare una prima informazione da questo punto di vista. Poi uno può appunto definire più nello specifico, andando ad esempio a lavorare sul dinamico nucleare, un fingerprint, un profilo genetico preciso dei determinati individui e quindi andare a vedere anche all'interno delle varie aree macrogeografiche che sono state definite tramite marcatori mitocondriali, andare a vedere differenze fine fra le varie popolazioni e quindi andare a confrontare in pratica questi genotipi multilocus, chiamiamoli così, di individui da assegnare con una banca dati, io gli ho messo popolazione 1 e popolazione 2 ad esempio come esempio, andrà a confrontare questi genotipi multilocus con la struttura genetica, con i genotipi multilocus degli individui che sono stati campionati nelle determinate aree per cui conoscendo appunto la struttura genetica delle varie popolazioni uno può andare poi a fare un test che vengono chiamate appunto test di assegnazione appunto genotipica che danno appunto una certa probabilità che quell'individuo appartenga alla popolazione del bosco mesola piuttosto che a una popolazione del parco naturale della Maremma o piuttosto una popolazione siciliana in pratica in questo modo appunto si può avendo appunto questa conoscenza di base appunto sulla struttura genetica delle popolazioni naturali definire in maniera relativamente appunto precisa dove andare a reintrodurre degli individui che sono stati confiscati oppure che fanno parte appunto di centri di recupero da privati o da altre fonti bene grazie io grazie